Con questo tutorial vediamo insieme come realizzare in pochi minuti un primo sito modello utilizzando l'ultimo template per WordPress realizzato dalla comunità di pratica porta aperte sul web PAS 2015 Per fare questo ci avvegliamo come prima risorsa della guida realizzata da Riccardo Boccaccio che trovate a disposizione all'interno del sito GitHub in particolare sarà preso a disposizione nella parte riferita al wiki dove avrete la possibilità di trovare varie pagine e tra queste installazione da zero In questo spazio troverete i due file che ci interessano ma è già in anteprima e abbiamo la possibilità di vedere il primo che è proprio quello sull'installazione da zero con file XML Quali sono i prerequisiti? Per prima cosa uno deve scaricarsi l'ultima versione di WordPress deve decomprimerla e deve caricarlo attraverso FTP consiglio è il programma FileZilla nello spazio che può essere sul locale o sul remoto dove intendere realizzare il proprio sito Una volta che questo è stato trasferito occorrerà poi andare a scaricare il tema PAS 2015 all'indirizzo github.com portaperte sul web ma vediamo prima quali sono le operazioni necessarie Come dicevo la prima cosa è quella di andare a installare WordPress ecco per fare questo al momento in cui noi andiamo a realizzare l'installazione dopo che abbiamo trasferito tutti i file dell'ultima versione nella cartella dove noi andiamo a installare WordPress e quindi sarà quello dove risiederà il nostro sito andremo appunto a seguire le 4-5 fasi di installazione automatica di WordPress stesso cliccando sul tasto iniziamo accediamo alla prima schermata dove noi andremo a inserire il nome del database il nome utente la password ecco in caso di installazioni su remoto ci sono fornite direttamente dal nostro servizio di hosting l'host del database ecco la prima cosa nuova il prefisso tabella noi troveremo come prefisso tabella wp underscore ma è meglio modificarlo con altri caratteri in modo da garantirci maggiormente per motivi di sicurezza successivamente avremo una schermata interlocutoria che ci dirà di essere pronti e poi è il momento quindi di creare le tabelle in automatico questo lo fa ovviamente WordPress fatto questo si tratterà soltanto di riempire alcuni dati con il titolo del nostro sito ad esempio della nostra scuola ecco il nome utente qui sconsigliamo di usare admin sempre per motivi di sicurezza mettere invece altri nomi quindi una password da ripetere due volte che sia sufficientemente ricordabile ma nel contempo non troppo semplice quindi mediamente complessa con l'uso anche di simboli l'indirizzo email e eventualmente la spunta se noi intendiamo che i motori di ricerca possano indicizzare questo sito magari nella fase iniziale in cui il sito non è ancora pronto conviene lasciare deselezionata questa voce fatto questo abbiamo terminato e quindi ci troviamo di fronte a una prima installazione che naturalmente sarà ancora incompleta sarà un'installazione tipo questa noi andiamo a loggarci ci loggiamo quindi direttamente sul nostro sito cioè in pratica sull'installazione di wordpress appena fatta spero di ricordarmi la password se no devo riprendere da zero ed ecco che ci troviamo in una situazione proprio iniziale se andiamo a vedere il sito noi abbiamo il tema di default di wordpress cosa dobbiamo fare? dobbiamo guardando la guida riprendere l'indicazione che è quello di andarci a scaricare sul nostro computer pass 2015 da quel sito che abbiamo detto precedentemente il git hub pass 2015 eccolo qua andando a cliccare su download zip e poi andando a decomprire il tutto e con filezilla andare a trasferire che cosa? andare a trasferire il cosa che non ho ancora fatto e quindi faccio adesso man mano che seguo il tutorial andare a trasferire il tema all'interno della cartella temi wp-content andiamo a cercare il nostro tema pass 2015 eccolo qua io naturalmente nel momento in cui voi andate a decomprimerlo mi raccomando togliete come cartella pass 2015 master e lasciate pass 2015 e successivamente semplicemente attraverso ftp andate a trasferire il tema stesso che accompagnerà gli altri temi default di wordpress e sarà proprio il tema che ci serve per andare a realizzare il nostro sito scolastico questa operazione è abbastanza veloce naturalmente dipende un po' dalla velocità di connessione quindi nel momento in cui sarà terminato avremo la possibilità di andare a selezionare il tema nuovo per siti andiamo a vedere torniamo qua all'interno del pannello di amministrazione del nostro sito che stiamo creando in questo momento andiamo adesso in aspetto temi e vedete che troviamo il nostro pass 2015 che lo andiamo a attivare è stato veramente un lavoro abbastanza veloce molto ben fatto sotto la regia di Marco Milese che ha accompagnato tutti i desideri della comunità di pratica e quindi si è sempre dimostrato molto pronto a seguire tutti i suggerimenti in modo da favorire il massimo dell'automatismo e della funzionalità di questo nuovo tema che vedete adesso è soltanto impostato di massima sembra ancora ancora tutto da sistemare ovviamente e per seguire i passaggi andiamo a riprendere la nostra guida ecco noi siamo arrivati a questo punto abbiamo caricato e attivato il tema adesso dobbiamo seguire le indicazioni che ci dà Riccardo attivare i moduli PAS 2015 attiviamo Tassonomia Destinatari bene quindi andiamo in PAS 2015 andiamo su Moduli e successivamente Tassonomia Destinatari attiva fatto proseguiamo adesso dobbiamo installare i plug-in per il caricamento delle pagine cioè la struttura del sito che ha realizzato la nostra esperta di architettura dell'informazione Renata Durighello dobbiamo installare un nuovo plug-in che si chiama Wordpress Importer bene come si fa si va in corrispondenza di plug-in aggiungi nuovo si apre una finestra dove noi possiamo andare a cercare il plug-in Wordpress Importer clicchiamo e poi con invio lanciamo la ricerca ecco che lo troviamo qua in prima posizione lo installiamo siamo sicuri ok e quindi lo andiamo ad attivare fatto questo cosa dovremo una volta che abbiamo attivato il plug-in voluto vedete che appare nella lista con primo nuovo plug-in andiamo in strumenti importa Wordpress e andiamo a cercarci il file che ricordo è uno dei due file che ci servono oltre alla guida che è quello modello sito 2014 messo a disposizione da Renata e scaricabile direttamente da quella pagina wiki di github bene io l'avevo già scaricato e inserito in una mia cartella seleziono il file clicco su apri e successivamente carica il file ed importa vedete che io posso anche modificare gli autori se voglio e assegnarli autori reali oppure non so come in questo caso posso pure lasciarlo download e import gli eventuali allegati se ci fossero così inseriamo anche loro e clicchiamo su appunto submit adesso ecco che è completata l'operazione di trasferimento file è tutto fatto andiamo a vedere se è cambiato qualcosa è cambiato ancora niente perché adesso li ho ma devo fare in modo che agiscano all'interno del mio sito il fatto che li ho lo vedo nel senso che se io vado a cliccare in corrispondenza di pagine tutte pagine vedete ci sono 45 elementi se vado in articoli ne trovo 6 quindi qualcosa c'è bene c'è soprattutto la struttura la struttura che è realizzata poi da quelle 45 44 45 pagine poi ci sono degli articoli di prova che mi favoriscono la comprensione sul funzionamento di questo modello bene l'abbiamo caricato e adesso passiamo alla sezione sistemazione dei menu dei widget vediamo cosa c'è scritto innanzitutto andiamo in aspetto personalizza e navigazione dobbiamo associare tre menu menu superiore menu superiore principale orizzontale inferiore footer bene cominciamo a fare una cosa per volta non ricordiamo magari bene la consegna aspetto personalizza navigazione bene aspetto personalizza ecco e qua abbiamo navigazione insomma veramente un bel lavoro come vedete qua in anteprima abbiamo anche i singoli risultati allora menu superiore sarà il menu superiore perfetto e intanto vedete che qua si è creato e quindi abbiamo proprio in tempo reale l'effetto dell'operazione menu principale menu orizzontale ecco che si è creato e invece menu inferiore mettiamo il footer che lui prende in automatico ovviamente e anche questo noi l'abbiamo realizzato bene vedete un automatismo molto ben curato che semplifica di molto realizzazione del sito poi dobbiamo cliccare su pagina iniziale statica e scegliere come pagina iniziale la home bene una cosa per volta perché poi ce ne dimentichiamo pagina iniziale statica una pagina statica e scegliamo home ecco scegliamo perché naturalmente poi il sistema ci dà la possibilità di scegliere tra tutte le pagine create e quindi noi troviamo la pagina home perché Renata l'aveva creata a suo tempo e vedete che in automatico questo si è popolato naturalmente questa è una pagina che poi modificheremo perché faremo una home un pochino più vivace ma questo sarà visto poi in altre occasioni bene arrivati a questo punto widget bar laterale x dobbiamo sx a sinistra cancelliamo tutti quelli preimpostati perché li metteremo i nostri menu e a destra mettiamo link utili benissimo andiamo a vedere un po' come si fa abbiamo detto che andiamo su widget e che consideriamo per primo la barra laterale sinistra dove andiamo ad eliminare a rimuovere quelli che ha dato wordpress in automatico perché li andremo a sostituire con i menu di navigazione tipici di una scuola togliamoli uno a uno e ci andiamo poi una volta che li abbiamo rimossi invece mettere a destra aggiungiamo un widget quale lo aggiungiamo io direi di aggiungere link utili e qua non troviamo allora torniamo indietro che non ricordo esattamente la cosa menu personalizzato ecco e poi da menu personalizzato andiamo a sceglierci link utili e lo mettiamo anche come titolo perfetto e questo l'abbiamo fatto avete visto che è automaticamente a passo veramente un grandissimo lavoro di semplificazione adesso noi andiamo a creare i menu dobbiamo creare in pratica sulla sinistra tre menu che sono l'istituto segreteria e didattica mentre sulla destra metteremo amministrazione digitale vediamo come si fa a far questo per far questo salviamo e pubblichiamo naturalmente quello che abbiamo fatto finora usciamo da questa visualizzazione e andiamo invece a crearci il menu sulla sinistra aspetto e poi il menu dobbiamo crearci i tre menu di cui parlavamo prima il primo è l'istituto clicco in corrispondenza di creare un nuovo menu lo nomino ad esempio l'istituto è importante cliccare su creazione menu in modo da confermare l'azione e adesso dobbiamo popolare il menu istituto con le proprie voci qui sono rappresentati più recenti possiamo cliccare su mostra tutto e vedere di andarci a cercare sono tutti già aggregati all'interno del papà l'istituto non andiamo a considerare menu di livello più basso ma clicchiamo quelli di primo livello dirigente scolastico organigramma organi collegiali strutture regolamento calendario cliccati su questi sei elementi aggiunge il menu e successivamente salva il menu importante ricordare questa operazione di salvataggio perché sennò non vengono confermati e creiamo un altro che è segreteria clicchiamo su creazione menu in modo da predisporlo pronto ad accettare i propri contenuti andiamo a cercare segreteria in mostra a tutti e vediamo cosa contiene al primo livello orari di apertura iscrizione modulistica calendario riunioni e pagamento e andiamo a cliccare su aggiungi al menu naturalmente questa è una proposta uno poi può anche modificare più cose ad esempio non è detto che uno decida di metterli qua però in questo caso noi è bene che utilizziamo questa impostazione non tanto per uniformità ma perché appunto è stata studiata per cercare di rendere più logico possibile il reperimento dell'informazione anche l'ordine teoricamente può essere modificato semplicemente col trascinamento salva menu dopo abbiamo ancora il terzo menu che si chiama didattica che nominiamo digitando didattica cliccando su creazione menu e successivamente andando a individuare gli elementi di didattica didattica andiamo a cercarlo vediamo cosa troviamo troviamo il POF l'orario della scuola i libri di testo attività e progetto non ce ne sono altre aggiunge il menu salva il menu adesso andiamo inserire anche il e a creare prima il nuovo menu amministrazione digitale creazione creazione del menu e andiamo a cercargli i suoi continui diciamo le sue voci anche qua privacy abbiamo poi deciso di metterla qua quindi al limite la potrà toglierla dall'altra parte oppure si lascia da entrambe le parti insomma qui sono un po' anche scelti individuali in parte aggiunge il menu e soprattutto clicchiamo su salva se adesso noi andiamo a vedere il nostro sito noi non vedremo di fatto i menu già presenti perché perché per poterli vedere rappresentati sulla colonna di sinistra sulla colonna di destra occorre un ulteriore passaggio questo passaggio lo effettuiamo attraverso aspetto widget andiamo a vedere cosa ci dice la nostra guida ecco vedete associare i menu creati ai widget bisogna creare sul menu personalizzato e andare a selezionare la barra che riceverà questo menu o lo selezioniamo o lo trasciniamo e poi dobbiamo andare a individuare qual è il menu bene si lavora quindi su widget quindi torniamo sul nostro sito e andiamo su aspetto widget ci interessa lavorare adesso sulla barra laterale sinistra e destra intanto che prima di passare anzi a questi passaggi possiamo già anticipare che vedete nel lavoro di pass 2015 noi abbiamo già predisposti la possibilità di avere tre colonne in home e tre colonne sempre nella home però appena sotto queste tre possono trasformarsi in uno o due basta che non contengano elementi cioè se io voglio avere soltanto due colonne nella parte centrale basterà mettere contenuti a sinistra e al centro e lasciare vuoto destra in automatico il sistema ridimensionerà i widget stessi ma torniamo adesso al menu il menu stanno su barra sinistra e barra destra in barra sinistra ne abbiamo tre andiamo su menu personalizzato e andiamo a trascinarlo all'interno di barra sinistra si chiamerà l'istituto selezioniamo l'istituto e lo mettiamo anche come titolo salva poi andiamo a crearci qua non cancella se non lo eliminiamo chiudiamo andiamo a metterci in un secondo questo secondo invece si chiama segreteria lo mettiamo anche come titolo è un elemento importante il titolo è poi un titolo di secondo livello molto utile di orientamento sia a livello visivo che per chi usa gli screen reader lo salviamo chiudiamo e poi mettiamo il terzo menu che in questa proposta è didattica didattica salvato invece a destra andiamo a mettere amministrazione trasparente o amministrazione digitale un altro menu magari mettiamo in alto sopra link utili amministrazione digitale scriviamo amministrazione digitale con la maiuscola ok salva andiamo a vedere se tutto questo ha funzionato e vedete che il nostro sito sta veramente prendendo forma ha già tutti i menu predisposti con peraltro anche i propri contenuti così di riferimento ma esso ovviamente poi ognuno mette tutto ciò che vuole basterà modificare la pagina e andare a inserire i contenuti che uno desidera bene andiamo a vedere adesso se abbiamo terminato quasi dobbiamo adesso andare in impostazioni del sito ecco in impostazioni del sito noi andiamo a inserire tutte invece le informazioni che sono tipiche della nostra scuola scorriamo velocemente ma giusto per ricordare che ora dobbiamo dare quel tocco di personalizzazione e dove lo diamo questo tocco lo diamo in personalizza puzzle 2015 personalizza ecco vedete che noi possiamo adesso andare a cambiare il titolo da puzzle insieme non so quello che noi riteniamo il motto se visualizzare il testo della testata o meno variare i colori l'immagine che attualmente quella di quella corrente che trovate che possiamo poi modificare con anche testate suggerite casuali l'immagine in questo caso è il logo della repubblica l'immagine di sfondo che può essere fatta in più modi con una casistica molto ricca veramente è stato preziosissimo il lavoro di Marco e diciamo sorretto anche della comunità ma lui ovviamente ha fatto il lavoro di sviluppatore più gravoso e poi possiamo andare a modificare la navigazione un po' quello che noi avevamo fatto precedentemente insomma fare tutta una serie di interventi di personalizzazione del nostro sito bene detto questo e poi ce ne sono anche altri noi campi generali le Google Analytics le Eder la Footer vediamo in PAS 2015 ancora impostazioni giusto per vedere dove erano PAS 2015 impostazioni eccolo qua e qui vedete che avete la possibilità di avere vari stili tipo il layout allargato i pulsanti social negli articoli le modifiche dei testi la gestione delle Google Analytics cioè degli accessi al sito con un tanto di link alla guida e alla configurazione Google Analytics credo che sia quella realizzata da Caterina Toccafondi poi il cambiamento della testata con i loghi insomma c'è veramente tutto un ventaglio di possibilità molto ricche per andare a personalizzare comprese le informazioni sulla scuola che automaticamente vengono ricepite e inserite nelle vostre pagine lo stesso vale per i piedi pagina insomma è un automatismo veramente prezioso quello che ci è offerto da PAS 2015 proseguiamo e facciamo le ultime cose cancelliamo le pagine ad esempio di installazione di Wordpress e dell'articolo ciao mondo e mancano soltanto due passaggi per dire abbiamo terminato questa prima fase bene allora andiamo come si fa a cancellare una pagina pagina tutte le pagine andiamo a cercarci non la vediamo subito ma siccome è stata messa dal programma clicchiamo sulla cronologia delle date andando a cliccare in corrispondenza il triangolino di fianco a data vedete che in testa c'è pagina di esempio la cestiniamo perché non ci interessa e lo stesso cestiniamo quell'articolo di prova ciao mondo che mette Wordpress bene cosa ci manca ancora ci manca andare in ad attivare l'opzione riassunto per i feed rss impostazioni lettura vediamo dove sono impostazioni lettura clicchiamo in corrispondenza per ciascun articolo in un feed mostra riassunto salva le modifiche e aggiungo anche una cosa andiamo a mettere i cosiddetti permalink gradevoli che sono quelli che non contengono punti di domanda numeri identificativi ma esattamente in forma corretta il titolo della pagina o della risorsa bisogna cliccare in corrispondenza di nome articolo e poi salva le modifiche finiamo guardando la guida poi da qui in avanti ecco che noi abbiamo già tutti i link diretti per i plugin da installare o perlomeno i primi plugin cosiddetti essenziali tra questi quelli che gestiscono tutta la parte di amministrazione digitale bene andiamo a concludere il tutorial vedendo l'effetto con la visualizzazione completa ecco vedete in poco tempo 25 minuti di cui una parte dedicata diciamo a chiacchiere in un quarto d'ora si riesce ad avere il vostro sito già pronto per poter essere sviluppato con i contenuti della propria scuola e soprattutto e anche con i contenuti obbligatori per comunicazione istituzionale con i contenuti si riesce a chiacchiere